Buongiorno a tutti, riprendiamo il nostro percorso di carattere didattico e anche storico naturalmente legato alla promozione di tutto il patrimonio documentaristico importantissimo del centro audiovisivi di Bolzano con un nuovo documentario che presentiamo oggi, Curon Venosta e il Paese sommerso, un'opera del 2019 che ha avuto e ha tuttora il grande pregio di riportare in auge quello che è stata una tragedia che l'Alto Adige, in particolar modo nel 1950, ha dovuto affrontare al lago di Resia quando si costruì la diga in quella zona, in questo caso venne sommerso un intero paese e spostato da un'altra parte. Questa è un po' la storia che il documentario vuole riprendere, però grazie anche alla grande capacità che la documentaristica ha, si riesce ad affrontare che cosa? Anche le storie del quotidiano di tutta la popolazione di Curon Venosta che ha dovuto spostare un vissuto secolare in un'altra zona, in questo caso abbiamo tutte le vicende sia di carattere economico e storico che hanno portato alla questione in oggetto della diga e del lago di Resia, oggi rappresentato come icona da questo campanile che emerge dal lago, ma sicuramente ci permette anche di avere uno spaccato importante, fondamentale di quello che sono le testimonianze. Ecco qui la meraviglia della documentaristica e dei documentari, riportare in auge e fare in modo che non venga dimenticato la testimonianza di persone che hanno vissuto e vivono tuttora in quei luoghi. Quindi una bellissima esperienza, godetevi questo documentario che sicuramente avrà l'occasione di permettervi di legarsi non soltanto alla comunità del territorio Alto Adige, ma anche e soprattutto avere la possibilità di avere una visione d'insieme dei fatti storici accaduti. Buona visione a tutti!